Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, 3 km di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. 2 km di coda per un incidente al km 29.500 tra Empoli e San Miniato in direzione Livorno. Ancora verso Livorno, code per lavori tra Scandicci e La Strassigna. In A1 verso Bologna per lavori corsie di destra chiuse tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci ed è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Per questi lavori rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, sempre verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 rallentamenti tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!